questo è successo a Livorno un livornese esce dall'ufficio e vede a un povero disgraziato che si mangiava l'erba e ci disse senti ma che ti mangi l'erba? dice sai io sono povero albanese ho fame piuttosto di andare a rubare meglio mangiare erba a chi ci fai chiamare lo cuore? dice poveretto no dice lascia stare ti porto a casa mia mangi a casa mia si io la ringrazio ma c'è pure mia moglie allora chi ci pensa un po' ci dice e vabbè porta pure la tua moglie avanti si ma c'è un altro problema io avere due figli anche loro avere fame chi ci pensa un po' dice e va bene venite tanto dietro casa mia c'è un bel prato grandissimo con l'erba io da un mezzo tanto vento vabbè